Ok, allora, pollice su, singolo, niente. Cosa muoversi? Sì, è venuto fuori un pallino e poi è smesso. Due pollici su, ecco, vengono fuori i fuochi d'artificio. Poi, due pollici in giù e comincia a piovere. Poi il cuore, fatto così, con le due mani. Palloncini, coriandoli. Ok, come si stoppa qua? Stavamo registrando, stop.